Meno mare e più cultura, così il ferragosto degli italiani, sintetizzando i dati diffusi dal Ministero della Cultura, che raccontano di città come Roma e Venezia, in cui i turisti hanno affollato il Parco del Colosseo e le gallerie dell'Accademia, e di una Vicenza che si conferma tra le città d'arte, tra le più apprezzate sia dai turisti italiani che stranieri, con un incremento di visitatori ai musei civici del 17,56% rispetto allo scorso anno. Si è infatti registrato il pienone nelle tre giornate di ponte, con 5537 ingressi nei musei e monumenti del Comune, dove campeggia come luogo più visitato il Teatro Olimpico, con 1920 persone, seguito dalla Basilica Palladiana con 1860. Se confrontati con il 2019, anno pre-Covid, restano al di sotto dei numeri registrati negli stessi tre giorni, pari a 6.071. Ma l'aumento c'è rispetto al 2022, che ne registrava 4.710, e al 2021 con 3.496. Un aumento di presenze si registra in particolare per Palazzo Chiericati, che da 520 ingressi del 2022 passa quest'anno a 805. I dati sono veramente incoraggianti, in particolare sono dati importanti quelli di Palazzo Chiericati, del nostro Museo Civico, che lo ricordo è il più importante museo civico, la più importante pinacoteca di terra del nord-est del nostro paese, e quindi ha un potenziale di crescita enorme. Devo dire grazie ai dipendenti comunali, al personale che ha mantenuto l'apertura nelle giornate di lunedì 14 e martedì 15 agosto, quindi a Ferragosto, perché ha consentito a tantissimi turisti e anche a qualche vicentino di poter fruire del nostro museo e in generale del grande patrimonio monumentale della nostra città.